Amici dell'E-Sport, buongiorno, io sono Enrico e questa mattina andremo a illustrare una macchina particolare che è all'interno del vostro centro. Questa macchina si chiama Low Pull. La Low Pull è una macchina della linea Kinesis, dove andremo a lavorare sulla parte della trazione, sul piano sagittale. Come vedete c'è un supporto tibiale dove c'è la possibilità di mettersi a sedere e quindi di avere una maggior stabilità per quanto riguarda sia la schiena sia per quanto riguarda le gambe e il lavoro che si va ad eseguire, si va ad eseguire soprattutto sulla parte sia delle braccia che la parte dorsale. Ora andremo a lavorare e a vedere gli esercizi che si possono utilizzare in questa macchina. Il primo esercizio che andremo a vedere quest'oggi è la parte della trazione posteriore delle braccia e andremo a lavorare sulla parte dorsale. Come vedete le maniglie sono ergonomiche. Posizione della schiena molto eretta. Trazione delle braccia. E ritorno. Trazione delle braccia. E ritorno. Cosa molto importante. La tenuta del gomito vicino alla parte del busto è tenuta un secondo per avere una massima contrazione. Come vedete ci sono due fatti pesi per avere una differenza di lavoro. Quindi se vogliamo farlo singolarmente lo potremo fare anche in questa maniera qui. e naturalmente avere un carico moderato soprattutto se abbiamo delle defazioni dal punto di vista muscolare. Quindi se abbiamo una defazione dal punto di vista destro riusciamo a lavorare con un carico minore e quindi avere una miglior trazione e una maggior contrazione. Come vedete la low pull si può utilizzare anche spalle rivolte alla macchina per avere un lavoro sulla parte del bicipite. Prendiamo le impugnature ci mettiamo con i polpacci sulla parte tibiale e andiamo ad appoggiare le ginocchia sulla parte della seduta. Gomiti in appoggio sulla parte estera del busto e o possiamo farli alternati o li possiamo fare simultaneamente. Questi sono solo due esercizi che potrete fare alla low pull. Ce ne sono tanti altri se volete saperne di più venite all'eSport per lavorare con noi su Tori e avere il massimo del rendimento. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto per il prossimo video. Grazie. Grazie.